Certamente la nostra azienda si basa su attività diversificate. Da generazioni gestiamo il romantico hotel Obaviat di Marlengo, che vanta una tradizione ormai cinquecentenaria. In passato, la fonte di guadagno primaria era l'agricoltura, mentre l'albergo rappresentava un'entrata secondaria. Oggi è naturalmente l'hotel, a rappresentare l'attività più importante. Ma ciò nonostante, ci dedichiamo con tutto il nostro impegno e la nostra passione all'agricoltura, alla frutticoltura e alla viticoltura. Il vino è la mia grande passione ed è per questo che ho aperto la nuova cantina vini presso la tenuta Eichenstein. In quell'occasione ho conosciuto la ditta Morigel e devo dire che ne sono rimasto subito colpito. La conoscevo di nome, avendo visto la loro pubblicità e le loro auto aziendali. Quando li ho conosciuti di persona, quello che mi ha colpito maggiormente sono state la flessibilità e la correttezza. Abbiamo dato vita ad una tenuta vinicola e costruito una cantina con enoteca, una casa privata e un piccolo chalet per gli ospiti. E devo dire che la ditta Morigel ha svolto un lavoro impeccabile dal punto di vista tecnico, fornendo soluzioni all'avanguardia. Sia i collaboratori che i dirigenti sono stati sempre in grado di rispondere al meglio alle nostre esigenze specifiche e talvolta complesse. Avessi bisogno domani di un partner affidabile, mi rivolgerei nuovamente alla Morigel senza esitazione. Sia i collaboratori che i dirigenti sono stati in grado di rispondere al meglio